Do qui, no, perché così sui... Eh no, ti metti il cavolo, passa Eh no, un po' chiudo la porta Dovremmo essere in stream, ora controlliamo Mettiamo i sound stories Aspetta Ah, guarda, guarda, sono bello E daglie, ciao Ragazzi, siamo in live sul canale di questo tizio Con due webcam, in live Wow Papà, c'è la voce peggio della mia, che succede? Ragazzi, siamo in live Ma io sto in live, è la mia Instagram stories questa A starto di merda Ma raga, ma io c'è una busta a facco vicino, che gli devo dire? Ciao Oh, la lampada Ok Ci siete, ci sentite? Io sento tutti Ci siamo, siamo vivi? Vi sa che siamo vivi Siete pronti? Ma non lo so Aspetta, devo aprire la live Voglio vedere Qua si vede Ma lo vedo bene Ti ti le cuffie tu, se no non senti nessuno Ma nessuno, Sascha, ma c'è pure Sascha? Sì, sì, c'è pure Sascha Sì, sì, che c'è Guarda che ci sono Aspetta Sascha è a casa perché è ancora malato Ok, partire è partita Sì, raga, sono sul cavallino Aspetta, aspetta, ci Sascha 130 Mettetemi Instagram stories, raga, ricordiamolo perché Che il YouTube è un po' bugato e prima dava che il live era andava male 21 Vai Hai fatto un Instagram stories Allora, la gente sta arrivando 12 12 Metti la slow motion Non so come si fa C'è la metto io La chiocciola Che metti tu perché non puoi metterla Sono moderatore Sono moderatore Ah, è vero, limita l'interno Certo a secondi Ecco qua Vabbè, fai vedere Scrivere una volta ogni Mille secondi Eh, capito, ma sono 100 Sono 100 È già di stela già così Già su 10.000 persone iscrivetevi su YouTube Cioè, fai 10.000 ogni 60 secondi È tanto Vabbè, ma ingrandisce la telecamera e vai via, Suri Ma non puoi fare i mille secondi Butta su, Suri Buttalo fuori Bastardo, mi stai coprendo Leva, Suri Ma cosa vuoi? Abbiamo occupato il cavo 15 metri In questa live Ma spostalo un po' di qua Eh, tagliere un po' la faccia Io vi tagliere un po' Io ho anche in ritardo Aspetta che ti metto nella fontana Ma cosa? No, Suri Aspetta Mi vado a mettere nel portale Grazie, eh Grazie mille Allora Suri Suri, lo sparire Suri Aspetta, Suri sembra Suri, dove sei? Suri, perché ti chiami Brenda? Come Brenda? Non mi Basta Ma cosa state facendo? Eh, ti stavo muovendo un pochettino Aspetta Mamma mia Io lo metterai tra quelle le cose che si possono shoppare, Suri Sai quando tu... No, arrivo da una scoprata di prima Ecco qui, mettilo qui tra gli oggetti che si può shoppare Suri Fabbabile Fate gli screen per l'Instagram Basta solo 45 gemme Oh, metti quello che costa 2.000 2.000 Aspetta Ma non ce li vali tutti i soldi 3.000 3.000 Ma non ce li vali tutti i soldi Ecco, ecco, friscia le tette, guarda Mi muovo anche Tagli, eh Le tette Aspetta, perché la gente si chiederà sicuramente Perché la live si chiama Sconfiggiamo il Favij turco? Ecco, allora Aspetta, ve lo spiego io ragazzi Allora, c'è questo youtuber turco che diciamo ci ha sfidato su questo gioco Quindi ci sarà Italia vs Turchia E visto che sappiamo che l'anima c'ha il competitor Lui vi dirà che non si può perdere, vero Sascha? Esatto Sascha? Raga, Sascha già è morto Sascha? Sascha? Sascha! Va bene Comunque, la sfida sarà Noi italiani contro i turchi Sul server 180 di questo gioco Trovate il link nel primo No Aspetta, aspetta Aspetta Gli avanziamo ma basti che va a pari Sì, c'è, c'è Non insultare, non facciamo razzismo adesso C'è scritto Cioè, ci sta Cioè, non si può perdere contro i turchi ragazzi Cioè Allora, il gioco ha messo a disposizione tipo due settimane di tempo Per fare più piccoli possibili Ok E dopo queste due settimane I giocatori migliori della fazione che hanno vinto Vincono tipo tastiere, mouse, pc Ci sta un po' di tutto Comunque trovate nel secondo link in descrizione Se non sbaglio tutte le informazioni Alla fine il gioco non pesa niente Perché è un gioco di quelli che si può giocare anche su Facebook Sì, sì, è un browser game Cioè, è un gioco semplice È più che altro la sfida Più che il gioco in sé Diciamo Esatto Guarda, c'è un pupazzo di neve Stefanino, a che livello sei arrivato? 25 A livello 25 Ma Suri è più alto di te Ma cagare, Stefano Mi ci vuole un secondo Se scocco le dita arrivo al 30 Allora, abbiamo creato anche la gilla Fai vedere la gilla o si possono aggiungersi Ah, a proposito, aggiungiamo anche gli amici Sì, che l'ho ancora aggiunto Allora, siamo io Suri il servizio e capo Ah, perché ho creato io la gilla Come ci sono io? Ti hanno, ti hanno dato al suolo Ah, sono lì Eccolo il capo Tieni E sei un fly Tieni Ma sono comunque il capo Sticcava a cacciare No, è che cazzo cacci Sono il capo Cosa vuoi cacciare? Brava, ma siete nel lobby? Cosa? Sì, aspetta Vedi se ci sono delle richieste Gilda Amministrazione, magari Accetta Allora, ragazzi, dovete fare richiesta Come si chiama la gilla? Iti Mates Iti Mates Iti Mates Mates, che Mates Ah, Giuseppe, tu sei questo? Mettiamo di guerra 92 Comunque Ah, le battute sull'entrata Sono vecchie ormai ste battute Il nome è questo, raga, della Gilda Iti Mates Il capo è pigro Aspetta, ha scritto il capo è pigro Chi ha scritto il capo è pigro? Il capo è pigro Che cazzo? E pure il gioco mi prende per il culo Chi ha scritto il capo è pigro? Oh 4 mila anni Dice Caporeglia Ma cosa dici? Comunque quindi aspettiamo Che vi Pure in questi giorni Nelle prossime due settimane Accetteremo tutte le richieste Perché la gente Se siete nella gilda Sommiamo i punti Ora sono mettiti su real power Esatto Le sto accettando anche io Allora io in prima Direi di comprarsi un cavallo Ah ma è lui che sta accettando le richieste Cioè oh chi cazzo è che incalce Sì 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 Sono io sono io Io ho comprato un cavallo Ti ho già scioppato Non comprare i cavalli Compra gli eroi Io l'ho comprato il cavallo Ora abbiamo anche gli eroi Perché ragazzi C'è tipo lo spacchettamento di eroi Bellissimo Ci sono anche i leggendari Ma come cazzo si arrivi in Turchia Senza cavallo E infatti Ma non ci devi arrivare in Turchia Tu ti sei nella terra E come glielo fai il culo a quello lì Vabbè comunque In tutto ciò Shop a un momento Ehm Dai Allora Raga Non ci vedete Ho fatto un leggendario Con le vocazioni degli eroi ragazzi Ora S'ammonerà intorno a questa fontana Totte eroi Seconda quante gemme andiamo a utilizzare Esatto E giornalieri Ce ne sono tre gratis Ma ne già ho preso uno Bastardo Senza far vedere a nessuno Tanto apriamone uno Raga io ho trovato due Ho trovato tre epici E un leggendario raga Va a coprire Tra dieci minuti Ce n'è un altro gratis Vabbè dopo Allora Quattro epici E un leggendario Cinque epici Primo Leggendario Il primo Leggendario La per forza Al primo L'ho trovato però Coglione Anche io Dai Due No Cosa dice L'epico Infatti Oh Ho trovato Gandalf Due leggendari Sucra 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 Devo fare quello prega O evoca Rituale Io trovo anche Gandalf Fraga E' bellissimo Evoca Devo fare evoca Ok Evoca Rituale o prega Evoca No l'avete capito Una segra in alto C'è stato prega Un rituale Ma tu sei andato L'eroe Ah ho sbagliato Mi sa Allora Fai la squadra Allora Questi sono gli eroi Che abbiamo a disposizione Noi siamo a livello 25 Poi c'è questo livello 10 Poi tutti gli altri Sono a livello 1 Allora Vabbè però metti Leggendario Allora In leggendario abbiamo Il giuramento della neve Questi sono Scusate L'eroe Ma puoi fare la squadra Certo Noi possiamo andare qua E potenziarlo Con le pergamene Che non hai Però basta shoppare In realtà E quanto costano Quindi abbiamo 1100 monetine Costicchiano Possiamo andare a comprare Un po' Inventario In negozio Dai quant'è che costano 100 luna 100 luna Quanto te ne servono Ne compriamo 10 Guarda il piano Non ci fai niente Non ci fai niente A quanto lo sali Allora vedrai Allora Guarda come si fa Poi troviamo Leggendario Spam 50 Mela Livello 15 Ma stai shoppando A bestia Ma finitai solo No Lo stai shoppando a bestia Sono relativi ragazzi E dai Quanti ci hai ancora Due leggendari E due epici Io No Ma io c'ho la fattina Di denti Io c'ho la fattina Poi anche questo L'aventiamo Io direi anche un paio Di pergamene a testa Più o meno Vabbè Comunque Anche questo Ce lo portiamo A livello 15 Il massimo Che gli eroi Che abbiamo Possono aggiungere Il nostro livello Che affinché noi Non siamo a livello Gli eroi che ci ha Come portare Una al 25 Dai portalo Stregone nero Al 25 Anche se fa cagare Ne abbiamo due Di stregone E fa cagare È normale Raga io ho finito Tutte le pergamene Su flora Mi sono innamorato Sì Ma che cazzo Dici Su rigioga Sto giochino Solo per le bocce Come fa vj Esatto Andiamoglielo un'altra Un'altra Di boccia Ma vai il 25 Butta al 25 No aspetta Bisogna bilanciarla La squadra Tutti Gli eroi Devono essere Più o meno Allo stesso livello Ma sti cazzi Mi fai il culo Al qualcuno Ma si Ma si Ma si attacca Ma poi come si chiama Tutto Com'è che si chiamava Lo youtuber Ma tipo Faviji No Quello lì Si è stato chiamato Faviji turco Perché ragazzi Comunque è un youtuber famoso È il youtuber più famoso Della Turchia È il primo È come Faviji Però è della Turchia E per questo l'abbiamo chiamato Faviji turco Faviji turco Cioè fa C'ha più fan di noi Ragazzi Quindi ci fa il culo Sicuro E ora ci sarà Faviji a letto Con la febbre Che apre youtube E dice Faviji turco What? È stato rimpiazzato No ma raga Lui è Faviji Fa anche cucina con Faviji E fa i kebab È giusto Beh potenziamo ancora Saliamoci un paio di livelli Mi porto sull'altro leggendario Che poi stavo ragionando Ma immaginatevi Cosa lui sta dicendo Cioè nel Quando noi diciamo Faviji turco E lui dirà Mi avrà detto Gli sti italiani del cazzo Mafia, mandolino, pizza No E noi gli diciamo Che babano Lui che cazzo ti può dire Scusa Saliamo un po' di Chi ti dirà Dove è stato avuto? Allora io per adesso Da un po' a livellare Ci facciamo un po' di pergamena Così potenziali Aspetta Aggiungi miei amici Guardali Sono i goblin Di scagnozzi Ma penali Aggiungi miei amici Non so se hai visto che squadra Abbiamo fatto Sotto Ma è troppo semplice Nel c'è delle missioni base Ma non hai messo però Il leggendario Nentre la squadra Papà C'è un mostro gigante Suri aspetta Ti sposto Che c'è un mostro Come mi sposti Mettilo più di qua Aspetta papà Che stai nel mezzo con le dita Ok Ok quando si illumina il potere Ovviamente dovete attivarlo Altrimenti Col cavolo che muoiono Non ho capito Comunque siamo troppo forti Per per il finello Direi Cos'è sta cosa Che mi sposti dove vuoi Così a caso Allora ci ha dato Una pergamena E poi le reliquie Con le reliquie Ti faccio vedere Aspetta Esci da qua Esci da qua Te lo dice direttamente lui Guarda Clicchi qua E lo puoi potenziare Equipaggi Il livello successo L'abbiamo già fatto prima Sveglia Aspetta Potenzialo Lo sto facendo Ma perché questo è il nuovo Ero Ciò che lo sto facendo Ok ora ci dice Andate a fare l'altra Io sto farmando Le schegge Di equipaggiamento Eh Eh voglio Gritarvi Oh Di nuovo contro Gandalf Eh Raga Apri un momento Vieni Facciamo contro Maggie Gandalf Devastato Troppo Ma puoi andare più avanti Suri Che sei così piccolo Sei mio nanetto Comunque ti volevo dire Che ci stanno dando Gli aggiornamenti Tempo reale Sulla situazione del turco Il turco è ancora A livello 20 Eh Il turco è ancora A livello 20 Davvero Sì Il turco è a livello 20 Perché ha messo Poco piccante Raga Io la butto lì Mettiamoci altri 100 euro Comunque Allora abbiamo Ci stanno dando Delle precisazioni Abbiamo due settimane Ma l'avevamo detto Due settimane per fare più punti possibili Rispetto a lui Ok Due settimane Con tutta la gilda Però dovete giocare tanto Ho vinto Aiutarci Noi stiamo vincendo sempre Stiamo livellando qua Se riusciamo a fare più punti di lui Essi vincono tutti i premi In Italia Anche perché i primi sono Oh il primo vince un computer Il laptop Raga il primo vince un computer Computer Anzi Mora andiamo a vedere pure i premi Così Il computer di Stepney Questo è grosso Questo è grosso Più grosso Raga Aspetta ci siamo noi Levo l'audio Così leggo anche la chat Ok Raga Lasciate un like Mi puoi comprare 20.000 Topazzi sul gioco Ma col cazzo Shoppi da solo Sono solo 599 euro Cosa Ma se sei a casa Che ti mangi il moccico Dai fazzoletti Ma che cazzo vuoi Ficchia però i boss Sono figli Cazzo Enorme Allora Leggiamo un po' anche la chat Vabbè papà Fai il moderatore di chat Oggi Dai comunque Ora modifico Allora Lo puoi mettere solo A far quello Allora Non l'ha sentito Perché un orecchio Non gli funziona molto bene Adesso Non mi può picchiare papà Sono a casa Eh intanto picchia me però Allora Non aspetta Devi potenziare il leggendario Al massimo Perché è tipo È più forte È tipo Warashi Allora Come Warashi Tanto inserisco in squadra Agli altri Il leggendario Il leggendario Norris E Calda Raga voglio Mi invito Ma dove cazzo sono Allora sta Baldraca Dalla squadra Io quasi quasi però Non lo so Perché anche qui sono È potenziale dai Ma Surry tu sei in partita E tu edward No 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 ma è meno forte Edward No preferisco Micaela Perso Micaela è più forte Ogni volta che fai il gioco Dove devo cliccare Surry Per giocare le prove Ma se vai sul giocatore singolo Sì Allora dovevo vedere i premi Giusto Eccoli Papà mi sa che qui prendiamo Una botta assurda Ma cosa Con due spada devi distrutto Non hanno neanche fatto il loro turno Comunque il gioco è a turni È tipo Final Fantasy VII Cioè Sì Il principio è quello lì Che attacca prima un personaggio Poi fanno la rotation Allora ci sono tipo 10 tastiere In premio 10 mouse 10 cuffie Ma sono quelle che abbiamo in salotto E il pc Asus ROG GR8 Comunque no Quando fanno la final Cioè quando si rimane il personaggio Dovete cliccarci È bellissimo Cioè guarda E però hai fatto una final Che è successo Stai calmo Sta provando i nuovi I nuovi campioni Eh l'avevo capito L'avevo Papà mettiamo il 300 euro Chiama qualcuno E facci mettere il 300 euro Di gemmi Che sciopiamo Non basta Non possiamo essere così avvantaggiati Rispetto agli altri Ma cosa Non siamo avvantaggiati Sei già a livello 30 Non so a livello 30 Quasi Livello 25 Comunque dopo C'è un'arena Contro Un altro Raga ma se andiamo con i giocatori Mi aggiungi gli amici Giochiamo assieme Dai a giocare con te Perché no Hai finito il latte stamattina Stronzo Ho capito che facciamo Ma non c'è il latte Finito Un litro in due giorni Si è bevuto Niente E non lo bevevate Prima di incontrare E poi si andrà a fare la spesa E se bevete pure il latte Io Un litro in due giorni Mi avete bevuto Ho bevuto 100 ml Che detto Si è bevuto tutto lui Comunque la final di lei È spettacolare Agostino ci sta ammazzando Però È bello Io ho vinto Vai Flora Agostino è il culo Raga ma Flora È di vasto Io l'amo Che basta Allora Adesso vuole uscire Surry Dimmi No Non è The Sims Non puoi crearti la ragazza così No Peccato Allora Perca miseria Mi sono appena reso conto Di una cosa madornale Cioè Non c'è l'audio di gioco Perché no Tu lo senti l'audio di gioco No Ma l'hai inattivato mi sa Aspetta 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 Dobbiamo tornare al minuto di prima Intanto aspetta Massaccheremo sti qua Sti gnome Boom Pesso te pergamena Ci può mettere anche una musichetta di sottofondo Alla live Voglio mettere l'audio di gioco Cos'è l'audio di gioco Bravo bravo Vabbè Tanto qui stiamo shottando tutti quanti Oh Tato 100 anima Hai visto quello dello stregone Della stregona Sto leggendo i commenti Però non scrivete solo ciao ragazzi Hai visto cosa combina la mia titrice Fa vedere Esce uno spirito da sotto Eh ora non te lo posso far vedere Aspetta che si carica Eh non so se ce la fai Entro questo round Cioè vinciamo prima probabilmente Anche se Karen qui si sta tenendo Abbastanza duro Buono Porto Andiamo va Va ti faccio vedere Aspetta No Allora fai così Prima cosa Invita agli amici Sasha E Non fare Invita ai due fregeli A giocare Quindi Basta vai nella gilda E vai nelle le Vai nella gilda Invita agli amici Aspetta Tanto metto l'armatura Scusa Me ne ho dato un'armatura Ma la metto Ma va bene Allora fermo L'audio Comunque ti hanno dato i forzieri Da aprire Perché non c'è l'audio di gioco È impossibile che non ci sia Ma te c'hai l'audio di gioco Suri che cazzo è modificato Io c'era l'audio di gioco Io niente Quando sei venuto qua Ti tolgo l'audio Ti tolgo l'audio Perché non si sente No Ti ho messo l'audio di ts Che altrimenti la gente Non ci sentiva C'era già l'audio desktop Sì Ma se non lo metti Doppia traccia Non l'ha messo Caspita Ma che cavolo so Non è possibile Ecco qui 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 L'ho già cliccato Ora Perché non si sente l'audio Suri Che lo so io Dai Suri viene a intervenire Suri Dai Facciamolo sparire Matti con la sua webcam Nel mentre Cos'è che devo fare Avete detto Ah c'è da imitare gli amici Suri e Sasha E io leggo qualche commento Sistema questo problema Ha fatto Suri il guaio Cos'è ti ho solo toccato OBS Ma qui l'audio è alto Cioè Al massimo Come al massimo Eh non l'avrei bastato da qua Io non l'ho bastato niente Ho toccato nulla No Provo a chiudere e riaprire il gioco Metti però la telecamera a tutto schermo Quando fai chiudire Metti la telecamera a tutto schermo Così chiudi il gioco Questa è più grande Ok Adesso chiudi il gioco e riapri Ragazzi aspettate che riavviamo il gioco un secondo Allora state progettando altri viaggi Sì Penso di sì Il primo forse sarà a marzo ragazzi Allora apri qua Chiudi qui Il gioco lo trovate nel link in descrizione ragazzi Il server si chiama Italo Turco L'hanno creato apposta per noi Cioè non so se capite Il server è 180 S180 turco italiano Italo Turco Ma sei sicuro che l'avete messo il link in descrizione? Non lo vedo Sì Io lo vedo È il secondo Ok Ora abbiamo l'audio Ma abbiamo il gioco piccolo Devi fare come prima Mi ricordo Qual era il tasto? Ah no ce l'ha già Niente niente Saria niente Suri Vabbè Un po' più a sinistra Oh Smetti di farlo urlire Ok Alza un po' il volume È basso È basso C'è la musichetta Sono lieve e suave Tranquillo Suri è diventata la minimappa del gioco No che cazzo stai facendo Stefano Non l'ho fatto apposta Fai riapparire Suri Ah dove sono? E abbassa il volume È basso No non è basso Lo dicono anche in chat Che non è basso Ma cosa che gli sarà arrivato adesso? Non è basso Perché dicono che? Vabbè Allora dov'è che devo accettarti Mi hai detto Nella Gilda Io non so se voglio amicini Vabbè Vai Gilda Ah aspetta 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 Qua qua Sono qua le richieste Aggiungi Ma accetta anche gli altri Che sono ragazzi Aggiungo tutti Aggiungo tutti Raga però dovete arrivare a livello 20 Basta fare la storia Per arrivare a livello 20 Ti ho accettato eh Sascha te non me l'hai inviata La richiesta Vai in Gilda La richiesta di dove? Di amicizia Dove si fa? Nella Gilda Nella Gilda Io abbasserei un altro po' Uuuu Cosa è successo? Abbasserei un altro po' Il volume di gioco Spendi 500 di Cosa? Ci stanno dando un botto Abbasserei un po' Il volume di gioco È bassissimo Non è bassissimo Si è bassissimo Adesso non ci sente più Let's go to the mall Che è successo? Dove sta sul ricordo della Gilda? Giuseppe mi ha fatto togliere il gioco Non l'ho tolto L'abbiamo abbassato Adesso è sparito Medaglia No no c'è 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 la musetta Che deve ripartire Si c'è 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 Allora Stai finiti Ho mandato la richiesta Tanto potenzio lui C'ha che non riesce Pensa livello 3 Costa 40 Comunque Posso fare 6 livello Perché Intanto abbiamo 13 Perché viena appena guadagnate Non sono da mille esperienza Lo vogliamo molto di più Vado qua Vogliamo spendere molto di più Ne compro altre 2 Quanti mai monete ti mancano? Ma No raga Io sono sulle richieste De Gilda Gli accetto Le persone Bambi Accettate le persone Che sono Oh a livello 24 Il leggendario Quasi più forte Ma raga Mi butto tutti dentro Non può diventare più forte di me Allora Allora Proseguiamo No raga Ho compato Il pericamenti Danno 50 mila Di esperienza Buongiorno Ma no raga Ma hai detto che la Gilda È completo Addio Sascha Beh Al massimo Cacciamo qualcun altro Sti cazzo Il trio è tornato Sascha Che cazzo vuoi? Dai Sascha Se mi streami Skype Metto anche la tua Facecam da qualche parte Adesso mi dici No Perché? Adesso Ha visto? Sì l'ho vista Sto leggendo Allora no ragazzi La webcam di Sascha Vediamo di provarla A mettere un po' dopo Perché se crasha tutto Sono cavoli Vai vai papà Ti hai rifatta la final Tu dormi però Caspita Sei in un centro di recupero Sto leggendo i commenti Sascha Digli qualcosa Sto vecchio Allora ricordiamo Che Sì Sì Allora Due settimane dura Diciamo la sfida Se in due settimane Facciamo più punti I premi vanno agli italiani Se fanno più punti i turchi Vincono i turchi I premi vanno ai turchi Sono contro Nicole Kidman Ma Cosa? È dura Questa silla Allora il link del gioco Lo trovate in descrizione Stai Alzalo Alzalo un poco Mettilo al primo Mettilo più in grande Mettilo due volte Che ne so Non lo trovano Mi si fa a non trovare Mettilo due volte Ma non voglio stare con voi Che dia Mettilo due volte Ma tu sei I'm Stampy No? Ok Allora ragazzi Adesso dovreste vederlo C'è solo quello adesso C'è solo quel link È impossibile non vederlo Se non lo vedete Compratevi un paio di occhiali Prima di giocare Eh Io sono su Io sono su Skype Aspetta che me l'ho dato La cintura di fe Ah davvero dicevi Aspetta Ma no Tu le hai detto Sì Va bene Allora Guarda 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 No non c'è Suri qua Dove? No niente Tranquillo Tutto regolare Ora prima Ma far comparire Anche Sasha Nel gioco Vedi tutto Il gioco si chiama League of Angels Due Vabbè sì Mi hai fra gli amici? Eh Io ti vedo Che ci sei Però non so C'è una persona Che ci segue Dalla Danimarca Ma che caspita Ti chiami? Aspetta Scrivilo su Whatsapp Aspetta Se questo qua Non credo Oggi è il tuo complanno Non credo Oggi è il complanno No mi sa di No Bugiardo è il tuo complanno Invece Stronzo Non mentire Sto scrivendo Scrivendo Sì Va bene Nel frattempo lascia il gioco Tanto Sveglia Come si chiamano i turchi Come si chiamano i turchi Che ne sappiamo Cioè i turchi Sono scritto su Whatsapp Come si chiama Lo youtuber turco Questo non lo so Ragazzi Sai che mi ricordo Amed Non si chiamano i turchi Non si chiamano i turchi Non si chiamano i turchi E' possibile anche fare gli scambi Se vuoi Possiamo anche comprare le cose 100 monete d'oro No 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 E vabbè fammi anche il critico Bravo bravo Abbiamo 0 monete d'oro Infatti gioca Devi prima giocare No non è vero 3.400 Leo No ma sono poi Le monete diverse Lo dici tu questo Tu questo dici No dico io Diamanti insufficienti Basta Basta prendere Com'era quest'elmo Ma non li puoi Basta spendere soldi Vesci Invece si Se carica altri Mi ha mandato Mi ha mandato il nome Ok Ah è nuovo questo account Eh perché sarebbe un peccato Se Abbiamo gli streaming Che cambiamo account Sarebbe un peccato Se qualcuno lo vedesse Qual è adesso? Come qual è? L'eroe Quale di questi? Quale? Non penso sia quello Qual è di quello? Ce n'è uno Non posso chiamarmi in tanti moduli No No non può essere quello Aspetta sono Aspetta Cerca questo Se non ti trovi Trovi Oh Fatto Ti ha giunto Non mi dà che ci stai Dove sei? Perché è occupato Dagli il tempo Ok Chiamami Ah dice Adesso ci sei Allora Teniamo su real power Ma come? Allora come si chiama il server? Il server si chiama S180 Itolo Turbo È stato creato proprio apposente per la sfida Ok Siamo entrati in guerra ragazzi Scaricate il gioco No zi Qui prendiamo delle bombe assurde Cosa sono in maggioranza? E questa cosa non è proprio bella come cosa Però non ti fanno danno Ah ma Ma stai gioando con Surry? Ma non è vero Non c'ho C'è uno che si chiama Surry al palo Eh lo ho evocato io Perché hai evocato Surry? Puoi evocare quelli della Gilda La mia squadra Cioè è giocato il mio PG Ma non sono fisicamente io Ma va a cagare Surry Mica regge un botto per lo Surry Io sono forte Ho sciupato 300 euro Oh da notare che Surry ha solo donne in squadra Eh oh Eppure io mi sa A parte l'uomo Però Surry c'ha la guaritrice Visto se ha tipo una donna E' la leggendaria E' la leggendaria Che caspita dici che sono Maggiore parte sono donne Ma se in squadra ho tre uomini Eh E' i sui gusti Sì ma di solito uno che sta con tutte donne Non continuiamo dai Non continuiamo Sasha se non mi rispondi Non mi dà che mi sta chiamando Aspetta No però tu la devi metterla Eh devi mandarmela tu la facecam Dei chiamarmi tu la facecam Ah ok 25 Dai che scioppo tutto Allora leggiamo qualche altro commento Stai chiamando con la facecam? Allora il cambio server non so se si può fare Non so se riusciremo a mettere lo Sasha Lo vediamo eh Aspetta come faccio? Fai il cattura finestra Oh No 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 cattura finestra Allora aggiungi Come si vede l'indirizzo di Skype di Sasha Sono il minimo Oh con Giuda no raga vi prego No raga dai No dai l'hai preso Eccolo 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 Sasha Ma vallo più piccola sta merda Ma che cazzo vuoi papà C'è 4 mila euro e porta rispetto Sì 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 solo perchè sei così lontano da casa eh Che cazzo vuoi? No perchè ci siamo solo io e Sasha ora Allora Sasha lo teniamo qua e Sury lo mette qua Perché Sury lo mette qua? Eh è facile Ma che cazzo vuoi? Ok ragazzi abbiamo anche Sasha adesso Cosa vuole dire dalla vita? Hai visto? Siete meglio di che dell'altro Ma io sembra che ho la testa enorme e Sury piccolissima Sembra malato Come sembra malato Oh it's more important Perché metti di più zoomato Sury Oh zoom a tu C'è la mia web Taglia e zoom Ma come metti di più vicino tu? Ma è lontana Ma stai vicino Gnomo Che cazzo Allora ragazzi scrivete qualcosa in serio Lo leggo perché non sto capendo niente Come fai oggi è lasciato? Come? O cellulare E ho capito ma è Viaggia troppo veloce No no Assurri Guarda guarda ora guarda Quando non c'è Lo sto vedendo Guarda 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 ora Assurri Fai punti Guarda che lo mangi Dai guarda che mi ha girato Mangiava uno Ma non è più lì non è più lì Ma fai un'arena a sua testa No me l'hai allontanato Lo stavo cercando di mangiare No aspetta facciamo prima un'arena uno Oltre uno dai Dai Che sfida Adesso vinci Easy Easy Allora Danni ne fai Orca miseria Danni ne fai Mi stanno dicendo che il mio audio è basso Mi sa Mi ringrazio il cielo che ci sei Ma ringrazio il cielo che ci sei Dai che c'ho il Bam 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 Non c'ho mettere dislike Ok Hai visto Ho fatto il culo a Ryan Edvius Io sto scalando il palazzo Cosa volete la mia Qua è le arene Spaccato Allora Questa è sfidata il senso Vuoi sfidare il primo Oh Ma questo è sfidato adesso No Mi ha morto un tipo Bello Si è sciottato il carico Io la so se è sfidato il carico Mi ha morto un mio amico Evoco 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 Si io ti serve Quaritoria Mi ha morto Quarici 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 C'è 97000 E allora Spaccato Di sti cazzo Di orchi Cazzo Mi ha rimasto solo il mio personaggio Che è morto Allora Stefano ha provato a sfidare il quinto in classifica ed è a me mi stanno shottando raga è morto? è morto? che figata più basso di così non si capisce niente poi se c'è kong fu panna in spazio dai surri mi ero dimenticato riprendi i suoi e lo ingrandisci ma sicuro ripiccio vicino ok vedi dicono l'audio di gioco è troppo alto non è vero ma io sento bassissimo non so perché ma io sento fortissimo io ho 93 mila di pg no, no, che ha fatto? non ha fatto nulla lo senti? doppio? si io non ho fatto nulla raga, non ho toccato nulla eh, perché lo senti anche da ts mi muto da ts? no, ho già mutato skype ma non capisco perché ti sento lo stesso ma questo non mi interessa mutati su skype come si può votarmi? c'è il tasso del microfono vai 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 a soltarli ha trovato lo stesso noi stiamo perdendo pure questa se non mi spiegate perché io sono in un angolino da sole voi tre state di là allora non posso mettere tutti di là c'è che cazzo a metterla giocatore così con un angolino della vostra webcam così un bacino che lo mangio abbassare dei giochi dicono bellissimo no no stavo regolando il volo sto guardando la streaming e regolando il volume notti sconti muovere sa stai fermo ma tranquillo non è fermo ragazzi che ho fatto tutti gli audio di solo a passare un po con le gioche ci siamo non ti preoccupare dal gioco come faccio guarda papà gli schiaffi da sopra guarda ho preso sotto papà cosa cosa vuoi vedere ora sentono sentono niente e anche più sentono adesso adesso abbiamo sistemato tutto ragazzi quindi non chiedete cosa da caso no che ha preso il nuovo cavallo zio no aspetta aspetta giù cambia il cavallo no zio ha preso il lupo ste c'è un lupo epico come cavallo c'è un lupo bianco porca miseria allora il link è sempre in descrizione ragazzi per giocare per chi è arrivato adesso stai spiega la situazione spiega la situazione siamo in combutta con il favij turbo che significa il favij turbo che è quello che ho più scritto la turchia sta creando il team per vincere il torneo che stiamo facendo appunto adesso ti fa più punti in due settimane tra gli italiani e i turchi riceve dei premi tipo il primo premio è un computer poi c'è un tastiere mouse esatto e l'obiettivo quindi è fare entrare nella gilda il nome della gilda è t-mails quindi esatto fare la richiesta quando arrivata a livello 20 il server dove dovete giocare è il 180 che si chiama server l'italo turco ital turco esatto poi fra due settimane diremo anche chi ha vinto e tra di voi se qualcuno ha vinto i premi non fa troppo danno stico sono i turci turchi i murci se vincono i turci non lo diciamo ci vincono loro le cose quindi la voce da fare però stanno sciuttando lo sciuppato così va a giocare insieme sui miei tu potevamo giocare insieme è ma difficile c'è perché c'è gente che mi entra ultimamente nel gruppo allora andiamo dicono perché se non ti chiamai sur e picchia sempre ecco ecco dai perché picchi sempre perché stefano e sascia fan sempre casino sulle tre quell'altro che sono chiuso a chiave ecco il suo rivaletto alle 10 papà si sveglia ai 10 di sera ecco perché io vado a dormire su di che ci scherzi è io stamattina mi sono svegliato alle 5 e mezza ho visto stefano ultimo accesso 5 50 e mi sono svegliato prima che stefano andasse a dormire raga stanotte con sbucci stanotte con sbucci sono arrivati i primi in H1Z1 cioè leggendario vai approva tutti e dagli eh allora se andiamo sul sistema multigiocatore possiamo andare nel dungeon del palazzo dimmi se mi stai seguendo stefano aspetta fermo 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 torna nella lobby si è cura ho avuto ammazzo attimo sascia passa al pugno ruotato la tenta di un countdown perché siete andati completamente spazzati e ok così stiamo prendendo mezzo gioco non so dove caspita mettere devi fermarti basta muovere le cam mettile fisse e basta non così più e bene devo stare sotto dove metterli più piccole mettile normale e basta così così piccola a posto lascia così ma allora vedi che sascia c'ha la testa gigantesca è sti cavoli sembra un alieno allora mi piace visco anche noi dimmi guarda sorri quanto è lano sascia puoi andare più indietro il cazzo vuol dire allora mi devo portare la tastiera sulle gambe si guarda che cosa strana o non è una cosa che non esiste abbassate il volume su di che urla troppo cosa non hai fatto una pizza ragazzi stanno tenendo il culo che è quello che parla con la voce mi ha regalato a postino ala vai allora vai sul sito a multigiocatore tanto tibuti non dai su un mio eroe ne ho dato delle gemme ma c'è una voce che dice ma questo ancora male durante l'evento posto del mondo vedrai piovere oro ok vedi se in gilla hanno fatto le richieste basta per leggero già citato tutto siamo siamo completi già io l'ho fatto suri ma accetta almeno le richieste bastare quello della società tutta accettando tutte le richieste amicizie raga che si scrive ma c'è una livello trenta e fatto di noi che ti vuole a te mandateci la richiesta amicizia sui personaggi nella gilda io sono quello di livello più alto però 26 dubi che a livello 28 dicono alzate il volume step in santo video come di step? è di giuseppe no è di giuseppe no sì il nostro ma perché io sono più vicino al microfono sappiamo che il volume della voce di giuseppe è più alto è un più 5 più 5 e tu alza un po' la voce eh alzo ancora la voce ma stai scherzando? a volte ti abbassi a volte mi abbasso ma che stai bimbo a dire? a volte adesso con le cuffie e le orecchie non ti senti ma è un blu yeti eh eh non prende tantissimo ma sui quando ci sta fa ciao a tutti i caciotti oggi eh ma chi vi parla a canto al micro audio col me col pesto che hai detto? non ti sento io se ti ancora vivi mi sa che è crashato raga è inutile che cercate il gioco su google cioè che è successo ci siete? non ci senti dopo? c'è il video no 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 ci senti no 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 ma no 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 ma che caspita dici un attimo un attimo un vinto dal campanello davvero ma che è che ti voglio cercare a questo giorno? ma che sarà sarà premetta ordinato a mangiare allora potremmo fare il dungeon del palazzo ah ah ora lo dici mezz'ora è davetto ormai è stato un torneo da solo? no 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 Stavo sto livellando per prendermi le idro gemme per l'eroe Stai a finire questa partita ci sono Ok, dicevo inutile cercare il gioco su Google, cioè c'è il link in descrizione Lo sto cercando su Google, non lo trovo, c'è il link in descrizione Oh, bravo, bravo Ah, non posso giocare Grazie Sono i VIP 6 e superiori Medaglie, prendi anima Eccolo Non si sente Non mi ha VIP Stavo schiarizzando tu, raga, che mi fa due toaster E dai, eh Allora, Giuseppe adesso è andato a fare una ricognizione dell'audio della Della streaming, perché dite che non ci sentite Io qui vedo il nostro audio invece che schizza le stelle E non capisco Come mai ci sentite Provo alzare un pochino il game, vabbè Ho alzato un po' il game Adesso deve essere sicuramente sentirci un pochino meglio Voi hai sentito anche l'eventore, sento Davvero? Sì, minchia, quando parli Un jet Che cazzo devo fare? Sono in aereo Devo fare Eh, sorry, sì Sto andando in America Ah, vai, ti accompagno Gugu, gugu Nengo al volo Gugu Questa è livello 21 Qual è il livello più basso che ho? C'è un livello 15 Fa che gare il livello 15 Aspetta che va Sono in testardito che finché non salgo il livello 30 non sono contenti Allora Allora Guarda quanto basterà? 10 pergamele da 50.000 Che ci vuole? Eh, ragazzi Ragazzi, non devi guardare troppo la webcam Fa troppo ridere Perché io che ho la testa enorme Sui piccoli ronano Ti tiro un puglio Ti tiro Va che ti tiro un puglio Va che oh Ah, e mi abbasso, eh Uh, diamanti Sarà tutto fuori sincro Farà troppo ridere È tutto completamente fuori sincro È diverso Non c'è niente di sincronizzare In questa partita In questo video È la vita È la vita Allora, però Voglio vedere Io voglio fare cose Dai, vieni qua Sì, vieni qua Dai E invece Allora Assalto il dungeon Ma questo è Il peripismo L'ho preso Perché non dici di no? Questo è un gioco, ragazzi Da farci le nottate Tempio lunare E dagli Sfida Con le stelle giornaliere Sto sbloccando tutti i bauli Con le ricoverazioni Bravo Ma cosa vuoi fare con il lupo Che ti massacruti Hai visto? Hai preso un libro L'idroprisma Hanno il piroprisma Hai preso tu Vabbè Il pirlaprisma Devo dirvi Conteste Contesto Non siamo in squadra insieme No, ma ti sto dicendo Che è il piroprisma Ora scrivo ciao in chat Ah, l'ho fatto Nelle giro ci fa troppo ridere Nasi il tensile Dio son senti Spazio a me Cos'è che non si sente? Allora Mille persone scrivono E dai Ti ho capito Ragazzi Mettete la chat Sulla gilda Spacchiamo in che babà La gente risponde Dai Allora Ho avuto anche altre informazioni Tipo il nome dello youtuber Si chiama Enes Batur Come? Il nome dello youtuber Si chiama Enes Batur Enes Batur Me l'ho detto Si chiamava Mad Oh siamo contro Pandoro Poi hanno detto Che per riconoscersi All'interno della fazione italiana Basta che tipo O richiedono amicizia a noi O entra nella nostra gilda Oppure è arrivato tipo A livello 20 Creano la gilda Con scritto davanti I T Tipo noi ci chiamiamo I teammates Se loro si chiamano Così si riconoscono In modo tale Che alla fine Delle due settimane Loro calcolano i punti Tutte le gilde italiane E si vede chi ha vinto Papà ha scritto Nella gilda È che già ci stanno battendo I turchi Eh? Già? Sì Ma come? Che significa scusa? Eh ci stanno battendo Sono più alti di livello Probabilmente Avesse Ci sono due settimane Con calma ragazzi Cioè Vediamo La gente che sta guardando Assieme Magari si scrive E poi ci gioca Pian piano L'importante è far punti In due settimane Mi ammazzo tutti Allora Leggiamo la chat Adesso che abbiamo provato Che l'audio Si sente bene Il video Si sente bene Non muovere più le webcam Non toccare più niente Vai tranquillo Allora Ci stavo dicendo Allo youtuber A 3 milioni di iscritti Quindi vi batte Col cazzo Perché non ho capito Fate schifo voi E noi chiediamo l'intervento E noi chiediamo l'intervento di Favij E anche Favij C'ha 3 mila iscritti E che facciamo? 3 mila iscritti? Dai eh Si 3 milioni A 3 milioni 82 mila iscritti E noi chiediamo l'intervento di Favij E noi chiediamo l'intervento di Favij E noi chiediamo l'intervento di Favij Non lo so Sai che forse Abbiamo fatto una cosa Che faceva proprio No raga Nella nostra chat C'è qualche turco Ci stanno scrivendo i turchi In chat su YouTube Si che ti stanno scrivendo Non lo spero Voglio vedere Eh grazie Scrivi scrivi Hi mam Che cavolo vuol dire Ok ho completato il capitolo Ho sicuro che se vado su Instagram E guardo gli iscritti Cercai di portarlo al 30 Comunque ho detto Che abbiamo completato il capitolo Il primo capitolo è andato Il più semplice E ora si va a salire di livello Sempre di più Com'è giusto che sia Allora Oh questi gli sparano 6 seconda ondata Ragazzi non parlate più dell'audio Che vi meno a tutti Non è vero L'audio funziona Sur è vero Si sente forte Ma va bene Meglio così Meglio così Se sentite troppo forte Basta che ha passato un po' l'audio Aspetta come sta rispondendo Vai tutti sci Conti sci Flora vai Rispondete ai turchi Che ci stanno rispondendo Raga non gioco Perché sono a casa di Stefano E sto aiutando anche un po' con la chat Poi a casa mia Ci scrivono i turchi Cosa ci scrivono Sì sì rispondere alla chat globale Su tutto Ciao anima E 10 Ciao Vegas Ah è vero ragazzi Nella chat del server Non c'è tempo per parlare con il nostro avversario Ma come no Io ti ho fatto un animo prisma Non so cosa sia Io sto scrivendo Che non ci sta parola Ma la smetti Sur dice solo animo prisma No No prima ho detto anche idro prisma Idro prisma Animo prisma Poi ci dice puttanate All'animo del prisma tuo Cos'è? Ah ok Questa è una Tutta la notte La gente sta insultando i turchi in chat Raga non dovete insultarli Dovete batterli sul campo Ecco E non solo Fai detteli anche No Ma cosa? Fateli capire Che è l'italiano vero Sì ma bisogna far punti Non si vince con le parole Si vince con i fatti Oh lucas Classici italiani Che parlano parlano E poi perdono Nessun eroe è morto Ogni volta che non muore nessuno Secondo me ti paga di più Allora vediamo Fermo Fermo Abbiamo da sbloccare Tutte queste ricompense Che più o meno ho dimenticato Dai papà Mi compri questi 20.000 Tu ho pazzi Ti prego Ma basta Dobbiamo vincere Ah ma se viva il giro prisma Di cosa? Shoppiamo Non so 3-4.000 euro 3-4.000 euro A testa Ecco Ma abbiamo più soldi Quelli che vi vennerà La baracca lì di Di farlo e ferro Ma chi? Di che stiamo parlando? È qua a Med Non so come si chiama È nice Questo video rimarrà sul mio canale Questo è il mio canale Non dire queste cose E poi se vengono a cercare Ci ammazzo Ma cosa? Ci lascio il kebab alla finestra Ma perché non è che per forza un turco deve fare il kebab? Vabbè noi mangia la pizza Ti giuro Non lo direi bro Ti mangi solo pizza Pizza kebab Berlusconi Come si chiama il berlusconi turco? Se questo è il favigetivo Come si chiama il berlusconi turco? Non aveva fatto un drago nero Tagli Sarà Silvio a Med Berlusconi Silvio a Med Allora Ma che cosa? Vediamo qualche altro commento Grande Lukos Grande Lupo Lucio Mi ha scritto in chat Grande Domi Bella raga Ho aggiunto delle persone Tutte a livello 1 Questi stanno scaricando Guarda che stanno scrivendo anche in chat Però sono tutti turchi 180k Vegas Comunque raga Cioè non per dire Non abbiamo anche tanti fan turchi Fatti firma copie Lo faremo al prossimo In Turchia E in Turchia Ah Burkina Faso E in Turchia No non è in Turchia Ma non lo so ragazzi Fatemi fingere di essere bravi In geografia Ok aspetta Ah ecco cos'è che diceva I suri dei prismi Guarda capisco Eh siamo per migliorare l'eroe Mi serve la neoprism Eh non ce l'ho Tu l'hai trovato? Diamo anche in Italia Successivo Dai Uh ce l'ho qua Prismaterio E dai potenziamo Oh ma sei scema proprio eh C'ho 100 pergami Oh mio dio Quante? Come? Le scioppate? No Giocandola guadagnate Ah ma quelle di livello 1 E allora le diamo A leggenda Sì 100 pergami A livello 1 Vuol dire Due di livello 4 Sì da lei Bu Tutte mani Le ho date Livello 26 Il livello più alto è il mio Aspetta a sto punto Facciamo le cose come si deve no? E ve lappiamo il nostro ammettitore Una scrittura step penetra minciate globale Ecco i tu Nice Nice Ok livello 22 ci siamo Bene 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 Allora Vediamo qualche domanda utile Aspetta 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 Infatti Le cose da solo Ma sei scemo Basta Abbiamo Elmi Abbiamo 109 Abbiamo sbloccato qualcosa Ma ragazzi non preoccupatevi Voi salite di livello Lui sto facendo la propaganda Nella chat Per Per aumentare Le iscrizioni E la foga E la battaglia Oh guarda che arrivano tutti gli amici Perfetto Allora Allora In che server siamo? Italo turco Italo turco 180 S 180 Italo turco Esatto Dove essere il capitolo 2 Se finisco questo E' per questo che sto livellando un botto Questa è la fine del capitolo 2 Dovrebbe essere Quindi qua c'è il boss Ma lo stai facendo Elite O lo stai facendo normale? Normale Ah io Elite Ma se stai giocando in arena No Non c'è l'arena Sto facendo la storia Elite Poi non è vero che la stiamo giocando in normale Che dici tu? Eccolo Guardalo Orsi vampiri morite 7000 Non si vede C'è Sasha sopra Sasha è a cavallo Sì ragazzi potete creare le gilde Chiamarle anche i teammates 2 I teammates 3 E così via Sì tipo il clan Va benissimo Comunque l'abbiamo shottato E anche questo si leva Poi magari in 4 Raga mi sa che ci stanno offendendo in chat C'è scritto tipo Italians E poi delle parole che non capisco Eh beh è normale È normale sto facendo propaganda anch'io Capitolo 2 Ah comunque stavamo facendo Elite anche noi Per la cronaca Ha visto Eh Ho detto Non direi fare il normale C'è no è utile Eh Come se avessi livelli di personaggi Beh siamo messi abbastanza bene Devo dire Allora vediamo Ma quanta gente è entrata Non si ricevevi niente La squadra è C'è un botto di gente Noi livello 26 Poi abbiamo Karen al 20 Angelo di fuoco Micaela Stanno dicendo che l'abito angelico Costa 888 diamanti Me lo compri papà? No Devi guadagnare Tirchio schifoso No Necessario capitare? No no raga Mica è obbligato da shoppare Stiamo scherzando Non si paga niente No ragazzi Non abbiamo speso neanche un euro Stavano scherzando Non abbiamo speso neanche un euro All'inizio vi regalano delle gemme per salire E poi dopo Si può giocare tranquillamente Senza shoppare Tanto l'importante è in due settimane Fare tot punti Ma non penso che i turchi spendano i soldi Anzi Ce li hanno i soldi per spendere su sto gioco Cazzo abbiamo beccato un drago Cosa? Comunque Ma scusa ma se li metto qua giù in basso Non è meglio Secondo me è meglio perché Cioè preferisco che coprano gli scagnozzi Che il boss Qui si vedrà C'è la vita del boss lassù C'è la vita Quello è il drago A due teste mates Papà Ma perché mi hai messo giù? Non sono io E Stefano Mi si diverte a spostarvi Ti devo mettere per forza giù Perché se no mi coprite i boss Mi avete messo giù Guardali Guardali Sputali a tosse Bello lui Stai sputando Stai sputando nel vuoto Suri sta sputando a tosse a Suri Suri sputava a tosse a Sascha e Sascha sputava a tosse al muro Siamo dall'altra parte Siamo Su Stai sputando a tosse a Suri Comunque ragazzi Un'altra notizia Tipo arrivati a livello 30 No Questa settimana Ci vogliono tipo tre giorni Non è che ci vogliono Ragazzi Ci arrivo oggi Ma prima sta bene Non preoccupatevi In chat stanno scrivendo Se sta bene Sta bene Perché mi stai male Eh si sta rifacendo le tette Cosa? Eh così Aveva un problema Ah ok Ha un problema Un'operazione sta facendo Esatto Adesso Ma adesso? Sì è adesso Milano Ah non lo sapevamo Non lo sapevamo nessuno Non lo sapevamo più di palle che noi Esatto Se non ci dite le cose Vabbè comunque andrà benissimo ragazzi Tranquilli E Stavamo dicendo Che Se arrivate a livello 30 In queste settimane Poi ci saranno dei giorni In cui sarà fatto il dominio del server Che tipo Stefano aveva già provato in prova Che sarebbe giocare Tipo tutti gli italiani Contro tutti i turchi E ci massacriamo E là La si fanno più pure Noi andiamo con le pizze Bumi in faccia Orgoglio napoletano BAM 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 Ma tu i kebab Questi kebab Che cadranno dal cielo No li proteggiamo con le pizze Come scudi Ah così E poi li lanciamo come boomerang Vabbè l'importante è fare più punti Poi si vede Tutte le fan art che ci faranno Noi che abbiamo in mano lo scudo con la pizza Esatto Esatto Noi con la pizza E poi con la pizza E poi con la tour Con il kebab E due che si proteggono No raga La fan art più bella Vince già la top di su Piace che la guerra santa E' vero fate la fan art dei mates contro Enes Batur Però dovete andarvi a vedere chi è Enes Batur Ma mettete un cavolo di turco a caso E poi E poi mettete il kebab E noi lanciamo pizza E sarà il tutto tra le politiche di corrette Lanciamo un Berlusconi Eh dai Berlusconi con lo scudo di pizza Con il tuo marco porco La fan art è la vita ragazzi Ragazzi non avete niente da fare Comeriggio che non l'avete voglia di studiare Disegnate Sascha smette di spostare la fotocamera Non l'ho spostata Sì l'ha appena spostata Non ti muovere è lui che stai L'ho tocchignata L'ha appena spostata Guarda Tocchignate Non mi tocca fare così Guarda No Sascha non ti muovere Stai fermo Vi taglio le mani santo cielo Oh che cacchio vuoi da me Dovete stare fermi Ma sto fermo io Io ho risistemato i loro guai Caspita voi Non è l'aspizio Penso a salire di livello Penso a salire di livello Allora Ma che cazzo hai col telefono in mano? Sto leggendo i commenti C'è uno che è a livello 36 Ma è su un altro server E non lo so Chiedi il cambio server E non so se c'è il cambio server Non so se si può fare Sì Ma se sei a livello 36 Vuol dire che sei forte Quindi ci metti 3 secondi E dai Ma cosa magari ci ha messo 2 mesi Ma comunque I livelli totali sono 120 Però No sono 120 E magari ci ha messo 2 mesi lo stesso Ma sì Non ci vuole Non è che tutti so come si riconosce niente da fare Anche Nespatur sta facendo la live adesso Sì Sì E dai raga Licchiamola Ma no 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 Si scala Cos'è che ha detto Licchiamola No no Cosa vuol dire Poi vediamo Gioca Sto giocando Allora Allora Io ho bisogno di un computer Mio si è rotto il portatelo Ma va ma quello è figo perché il computer da casa Oh c'è il tuo armare di forbici Io bastardo Ok Dai dai potessimo un po' tutto Ora eduardo Ma chiacciao nel culo Ti bevo come un martino Che cosa sta facendo C'è le convulsioni Adesso Ragazza Anche il normale Non puoi andare avanti Ma lo sai che non vi trovo più con la finestra lì Come? Cioè non so come tornarci L'ho chiusa Non so più come tornarci Bentemente Sono Il portale Coglione Non me lo clicca Non clicca il portale rosso Ma che caspia stai dicendo Con la destra Stavo dicendo che Nespatur È un morto di tette Perché Come si sorri Ma facciamo Perché ho la squadra di tutte fighe Io ho tre ragazze e due ragazzi Eh quella è un po' considerarsi una ragazza Ma questo qua per official life Va su migo a segarsi Cosa? Eh prima o poi lo incontreremo in un evento Oh Rai no Gli diranno cosa abbiamo detto Stiamo scherzando NS Questo video si autodistruggerà Tra tre Due Stiamo scherzando Ha già fatto Tom Cruise Mission in posto Stiamo scherzando No 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 Suri si è spostato di nuovo È stupido Non mi sono spostato Vai più a tua sinistra Controllatevi la camera E state fermi La serie è così È ferma Mai a sinistra Oh Così Non vi muovete Te Sasha Non guardare Suri Che cazzo So il gioco di là Che tu guarda il muro Sposta il gioco E dove lo sposto Davanti ai tuoi occhi Non posso C'è la telecamera Fra due schermi Eh? Ti è sposta la fotocamera Perché stai Se la spazio Insulti Perché vedo Sasha Che sta così Mentre gioca Ma guarda Va benissimo Allora Ho vinto Ho vinto Quanto il boss E taglie Ecco Ecco L'ho messo nel mezzo Sei contento Oh Guarda Guarda Come è meglio Vedo Vedo mezzo schermo Dalla parte Mezzo In bocca al lupo Serena Per gli esami universitari Oppure Serena Lo sta studiando Per vedere la live Ma non è vero Raccontagli all'esame Che i turci Sasha Burci I turci I turci Sasha Burci Minchia papà Vai in cucina A cucinare qualcosa Si ha fatto una certa Allora Papà sto dicendo a te Dopo dopo Leggiamo Dopo Sono le due e mezza Dopo quando Ho fame adesso Papà Allora ci sono Turchi che insultano Gli italiani Gli italiani che insultano I turchi E quelli che scrivono Lettera a casa Pensando di sembrare I turchi È vero Effettivamente Si dà una gomitata Sulla tastiera Qualcosa scrive Il turco Qualcosa esce Laschermate che reggetta Sascha Prova scrivi qualcosa Chi è veramente La legina dei fratelli Cosa Non lo so Chi è la regina Dei francesi Si stavo leggendo Un dialogo Cucco Grazie Tutore Che scopera Tutore Tutore Mi ha preparato La cena Ma davvero Oh Fai qualcosa Ma è tutto Tutore Quando stava qua Non preparava Facciamo Cazzo Tutore Allora Ma è lo schifoso Che mangia Allora Non so Come si vede meglio La facecam Di Sascha Da Skype Che è quella Di Suri Da camera È più colorata Non lo so Mi ho detto Accendi la luce Non la mia caccia Allora Ragazzi A Montecatini L'altra Allora Il 12 Pebbraio Saremo a Montecatini Ma i bietti Sono già finiti Senza che Avessimo detto niente E il 3 Perché Cosa ho fatto Non c'è niente E il 3 marzo No il 3 marzo Scusa Il 5 marzo 5 marzo Risaremo di nuovo A Montecatini Visto che era Il teatro Era già pieno E dai Un po' di più Perché ti vedo Un po' piccolo Sembra un brusco Non è la mappa Oh Un brusco Chi Vabbè Sembra un puntino Non so Ma a che livello Si è arrivato Suri Informazione Io sono a livello 27 È più alto di teste È più alto di teste Sì ma Io ho potenziato La mia squadra Invece di pensare A me stesso Io ho potenziato La mia squadra Io ho potenziato Ancoli invaggiamento Tu hai fatto Un piccolo invaggiamento Tutti i miei amini Erano le armi E le armature Ma potenziate Ti dico che Il mio Pg principale Alla spada Il 52 Sì ma io Quando faccio Una sfida E guadagno Un idroprisma Non vado A usarlo Subito Non lo tengo Da parte E che senso Porta al 30 Il personaggio Principale Tranquillo Papà Movinciamo Questa cosa Guarda Capitolo Completato E andiamo Prendi il forziere Guarda Ora posso fare Un elite E andare avanti Guarda E non lo può fare Non lo può fare Come no Io lo faccio A fare Tutti in elite Eh ma devi fare Il normale Per andare avanti Scemo Allora Ragazzi Scrivete qualcosa Così serio Che vi leggo i commenti Non mi fa cambiare la squadra Stunfan però Ma perché Non insultate E ne sbattura Oh What Ho perso Per la prima volta Uno dei Degli avatar Eh va Inizia a salire Di livello Porca miseria Però ora Se lotta Sempre in meno E loro Sono pure Maggiore Ma questo La perdiamo Quello mi fa paura Freeman Papà Comunque Secondo me Sbagli Mettere un curatore C'è un curatore Eh su Ricerai Stai c'ha solo Offensivi Non ha nessuno Che aumenta Ma la miglior difesa È l'attacco Guarda là Guarda E guarda lì Ok Ma un curatore Ti fullava Tutta la squadra Non c'è bisogno Finito Abbiamo vinto Messi comunque Il gioco si basa Sul creare Il team perfetto Perché gli attacchi Sono in automatico Però ogni pg Ha delle skill differenti Vabbè Stefan Volevessi in automatico Di base Non sono in automatico No no Dico Gli attacchi base Poi ci sono anche Gli attacchi speciali E gli attacchi speciali Hanno skill differenti Quindi c'è chi cura Chi aumenta la difesa Chi attacca ad aria Chi attacca un single target Allora Abbiamo tutti Di livello abbastanza alto Oh aspetta C'abbiamo un healer Ce l'hai Il mille leggendario Questo me l'ha dato da poco Cioè non c'era prima Allora Sicuro Potenzialo Al massimo Vai Livello 16 Prova a usarlo in squadra Vediamo com'è Vabbè proviamolo Almeno per vedere Ah lo scioppiamo C'è 500 cristalletti Spostati allì Che è un mascello di gente Non si capisce Allora io sto accanto al portale Perché lo uso Eh lo so Ma c'è troppa gente Andiamo al mall Accetta pure le richieste di amicizia Raga Ho trovato un colosso Raga Mandateci le richieste di amicizia Sui personaggi Oppure Create anche le gilde I teammates 2 I teammates 3 I teammates 4 E così via Allora dov'è Messo la cerdotessa Qua Beccatene Sbam Ok Mettila al posto di Di quella lì Che è fatta a cadaria Posso scioccare Penso Chi levi per mettere lei Posso trovare la guardia imperiale Che mi fa Vabbè fai la squadra Fa pena in realtà Rispetto all'altro Se non sbaglio C'è uno che schiatta sempre Per primo No in realtà Su primo è morto qualcuno Eh però C'è sempre che arriva a fuoco Allora guarda in regale Leva Karen Cambiamo In piazza Dove Terra 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 C'è su di ha sbloccatore Il colosso C'è l'opera No Eh sì L'ho sbloccatore Ho trovato ora Chiudi Ma Tu Papà Ma ha scritto In la chat Come si chiama il server S180 Italo turco Italo turco È molto difficile S180 Italo turco Ragazzi A livello 30 Vi fate la gilda La chiamate con iniziale Itmates 2 3 4 5 6 8 2 settimane di tempo Per fare più punti possibili Esatto E il migliore I migliori vinceranno i premi Se vinciamo Se vinciamo come squadra Esatto 23 Allora Devi fare così No Esci da qua Abbiamo la squadra Ragazzi Stai entrando un casino E già Non si capisce più niente Se a me sta per crashare tutto Dici Facciamo implodere il server Beh Prova sta tipa Che cura Fai vedere Come cambia Mi fai potenziare tutti Perché Suri ha già fatto Lo faccio io Ci divertiamo Io non la faccio io Potenzialmente Ok Ciao Dite a Flavio Tanti auguri Ciao Flavio Auguri Ok Ok Sì S180 Turco italiano Hanno messo prima i turchi E poi gli italiani Non so perché Bastardi Italo-turco si chiama No turco italiano Uno della certa ha scritto Gioca da 15 minuti Gioca da 10 minuti Sono al velo 15 Vedete abbastanza semplice Arrivare Sì Arrivare A livello massimo Al 120 Quindi c'è da lavorare Però per arrivare ai livelli In cui poi si può giocare Di gruppo Eccetera Non ci vuole tanto Allora Ho cambiato la squadra Fatemi un bel team Mi raccomando Ho cambiato la squadra Ho messo l'healer Poi è tutto gratuito Quindi cioè ci sta Io ho ancora su l'healer E dps Vario Però forse Ok Eh forse si È targetizzato sempre Però guarda lì Mi chiamato sicura da solo Adesso fai la special Quando ce l'ha Cura tutto il gruppo Ora non serve Ah minchia la grande Adesso tolgo un botto di roba Vai Ok E anche questo è andato Allora secondo me con l'healer È più Equilibrato il team Ma sì Decisamente E poi mi sa che lei Cura anche Tipo il Ma l'ha messo dietro leader Eh no Ora hanno Ora hanno tutti quanti La famiglia da attivare Ciao Edward Guarda lì Boom 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 Addio Edward Tutti full lì Ma che Edward Mani di form c'è Eh sì C'è la spada in mano Quello di prima che Fluttuava in cielo Sei morto Anche mi Sembra Vladimir Ah in gioco c'è C'è in chat Dice uno che c'è A livello 67 Il personale Finchia Sti cazzi Allora Ok Uh inizia ad andare Per chiamare blu È di livello 2 Sono Eh se più avanti Gli hanno dato il drago nero No aspetta Questi sono i premi Devo Eh di prenderli I premi Di riscuoterli Scattare Scattare Danno la peste Di fare Aspetta Ok Tra ora la faccio Aspetta Eroe Andiamo qua Dalla sacerdotessa Lunare Anche c'è la Sarcito Allora Un addetto Papa Ho iniziato Ero livello Non so che cosa Su un altro Server Tanto in 2 giugno Arrivo a livello 36 Spacco tutti Brava Grande zio Grande loschio 88 Andiamo a te In squadra Allora Dobbiamo Eh Come caspita Si sposta E taglia A per spostarlo Metto Karen Qui Metto La sacerdotessa Dove c'è Quella del Ti dirò Conviene Che metti Quee Davanti Centrale Metti il tuo Eroe Perché di solito Centrale Quello Che tanca Di più Mi sa Si è quello Che ha più vita E fa che fa anche più Danzo E così Ragazzi Come si cambiano Le posizioni davanti e dietro E base Vai su squadra In basso a sinistra Che ti su formazione Ragazzi Ragazzi Tutto con tre stelle Una bestia Alleato puoi mettere Aspetta Aspetta Un alleato Puoi mettere Il modello Eroe Alla La sacerdotessa Che significa Alleato Clicca Alleato Solo Ok A livello A 30 Puoi aggiungerne Un altro Ok Dai Potenzia il tuo A livello A livello 30 Che sto facendo Non devo fare questo Ok Ci siamo Di nuovo Allora Vegas Chi è il tuo figlio preferito Non si dice mai Ragazzi Ah Ti vuoi esporre Vecchio Aia Già è sbagliato Per essere il preferito Allora Abbiamo messo L'healer dietro Il gioco si chiama League of Angels 2 Trovate il link In descrizione E per due settimane Ci potete giocare Sul server Nostro Ma cosa Vai avanti Esci Quindi hai messo Al centro Il tuo personaggio A sinistra Comunque Una sorta di mezzo Tanto I due leggendali Lui si chiama Norris E lei Non lo trovo Formazione ragazzi Ma Vado Su Guarda E c'è a sinistra Tutti Tutti Pg E Sì Hai due bottoni Tu Oh Tenitela Non la usare Tu aspetta Hai perso al primo round O al secondo Al primo Hai perso al primo Oh mio dio Ma che cosa stai facendo Ok aspetta aspetta No calma Siamo in tensione Perché ci hanno fatto il culo Calma L'evere non carica molto Eh ci mette un bel po' Perché Allora ce l'hai Serebbe opere La cura Ogni totti Eh ma questa non era inutile Da usare Ah ma io pensavo La tenevi Non avevo capito Che era il round Qua tu hai perso Eh cazzo E non hai le final Tranquillo Arrivano 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 Tienitele con calma Usale per bene Non tanto una Serve quella del leader Devi curare Serve quella del leader Arriva Sta per arrivare Calmate Cazzo Se non arrivo Vogliono tutti Tranquillo Tranquillo Eccola No Sono passato dal cavallo Al lupo Ghiacciato Anche Tutti C'avevo Un lupo Vabbè Qualcuno Voglio far Gli focale Comunque Fa malino Esta A me Ragazzi Sta Shottando Tranquillo Tranquillo Ma cosa Dici Tutti Sono morto È morto Su Eh ma Mi sa Che Questo Il secondo Round È la fine Muore Muore Adesso Muore Adesso Temano Cura Dio È il nostro Round È il nostro Round All'ultimo Oh mio Dio Ragazzi Bisogna Usare bene Le skill Dele finale Studiarsi Anche Il tempo Quando Arrivano Eh Qua La vedo Dura Adesso Aspetta Ci ho dato Una cintura Mettiamola Subito Cambia Con questa E' potenziare Anche un po' I personaggi Eh Oh bene Sono finiti I soldi Eh Potenzia Potenzia Money The end Grave Papà vai a cucinare Qualcosa Che Allora Leggo Qualc'altro Nome E Si fanno malecane Comunque Suri alla terza Rinoncia Il terzo Capitolo Già Le donne Sono quasi tutte nuove Eh si È un po' Per i tettoni No Per i tettoni Vabbè I amanti Boom Allora C'è l'ora E dai Posso aprire Di nuovo Boom Potenziamento Mi sa che perdiamo qua Raga Il server è 180 Poi che si chiama Italiano-Turco Turco-Italiano Non cambia un cazzo Oh che culo 180 Comunque Minchia Ma ti stanno crittando Addosso a manetta No No Oddio Non gli fai danno Non fai danni Non fai danni Ste Pespiati Ci stanno attaccando loro È ovvio che non faccio danni Guarda là Aia Grazie Hai perso l'iler Mi ha attaccato la linea dietro Perché mi cadevano attaccare Forza quella davanti Eh no Dipende dal tipo di esempio Quello della magia Ok Boom Boom Quanti eroi Boom Ah non c'è Lucas Ragazzi dovreste trovare Gildet che si chiamano I teammates I teammates 2 I teammates 3 I teammates 4 Potete sia crearle Che entrarci Basta fare la ritorno A me conviene farla Prima è normale Ora ci sarà il primo che crea I teammates 88 Vai 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 Anche i teammates 7 Il 15 strozzo Vaffanculo te Vaffanculo te Vaffanculo te Vaffanculo te Vaffanculo te Voi fate il 7 Poverino Non ho problemi Fate il 7 L'88 Prima del 15 Sì raga Montecatini È un meet and greet Però c'è anche Tipo una sorta Di show Ci sta Che hai fatto cambiare Il numero preferito Papà C'è Palo Rufini Io ma cosa vuoi da me Ho fatto tutto a solo Nessuno propresa Nell'8 Ho fatto tutto a solo Vabbè la volta È passata a 4 Io sono buono Ma 4 La cassa da morto papà 4 siamo noi La cassa da morto CS 180 Il server Ragazzi S 180 Comunque sì È meglio farlo Tutto prima In normal Guarda Livello 27 Ma sì Ma poi sblocchi Anche un botto Di equipaggiamento Facendolo in normal Un botto di diamanti Anche Sì Ma anche I prismi Cacchi macchi Vari Allora S 180 Il server Due settimane di tempo Per poter battere Enes Batur E tutti i turchi Chi vince Vince dei premi Che trovate anche In descrizione Quelli che sono scritti Il gioco Lo scaricate A link in descrizione E più o meno Avete tutto Le gilde Sono i teammates Quindi ci sta Basta che Le create voi Con scritto I teammates 1, 2, 3, 4 Quello che vi pare a voi E poi facciamo Il dominio All together E poi A livello 30 In queste settimane Si farà il dominio Del server C'è la possibilità Di cercare Di Di battere i turchi Allora Se ho capito bene La final Della vietitrice Colpisce nella stessa linea Quindi se in quello davanti Ce n'è uno solo Non conviene farlo Ok Infatti devi capire Anche queste piccole cose Ma quanti Quanti campioni esistono Cioè quanti personaggi esistono Eh un bel po' Sì 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 Oh e Dalia Posso vedere qualcosa Ora stanno dando Le pergamene di livello 2 Quelle che danno più esperienza Così livelliamo ancora personaggi Comunque tutti prendono già Un po' di esperienza di base Quando finisce la partita Infatti Cosa potenzia da lei E Dalia Potenziata Potenzia da lei Stiamo sudando come dei porci Potenziata anche la leggendaria Devo spaccare tutti Raga lasciate un bel mi piace Mi raccomando Prima di andarvene dal video Boom No Ho capito Ho capito Qua 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 Ok Addio Lin Morta Lin Sun Queen Bye bye Esci Aspetta che riscuoto le ricompense qua Allora Posso potenziare? Penso di sì Prendiamo Nel livello più basso L'angio di fuoco Allora Leggiamo qualche altro commento Nel livello 21 Tutti A che livello ce l'hai i tuoi compari Surry? I? I tuoi compari I compari Cosa sono i compari Di cosa stai parlando? Niente Surry Tranquillo Ah vabbè di personaggi Allora Ce ne ho Allora il mio principale Aspetta che torno sulla squadra Il mio principale è il 27 Poi gli altri sono 25 22 20 23 Ok Posso potenziale Almeno il mio Manca sta cazzo di anime O prisma Guarda Il Dragoniro è una piste però E dai Un botto di rotte E ora il Dragoniro Un surclassato Guarda che guarda un po' di commenti qua Insomma è un gioco dove bisogna farmare un bordello Se volete salire di livello Sì è tipo grinding Mi piace È tipo Quando Quando giocavi Stare lì e Spaccare tutto P.V.A. Manetta Allora ho messo automatico Perché possiamo permetterci Dopo un pochino Fa tutto lui Contro testi Scassoni Quando fai l'It Non penso che ti conviene No Proveni così Il problema è che tira sempre la final E tu Magni il panino Mette automatico Mentre fai merenda O pranzi E la madonna Questo Do l'hanno preso Ciao 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 Con dicevo No Ti ammazzo Sascha E cazzo Mi sei spostato di nuovo Recicla No Mi sono spostato Mi sono spostato Il cazzo Devo stare In una bocca Mi è spostato La pesca Ma Mentre La panina cosa cosa è che hai detto a stare dello stare immobile immobile la scatola è staccato e cagata quanto di via quanto di via quanto di via e per la scatola più piccola sascia non puoi muoverti adesso si deve anche andare più indietro è più indietro non posso allora non gioco a te guarda così si fuori dalla scatola se no momento qua va bene già meglio aspetta mi pare che tu abbia un po troppo spazio vitale non potremmo essere io sono papà guarda dove è stato guarda dove è stato io mi metto insieme a pasturli come cazzo chiama tutto lì aspetta aspetta io non ci sono più dove mi hai messo ma sono un eroe ah si resta laggiù aspetta 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 1 e 2 eh spero vediamo che si carica la live e vediamo cosa sta facendo ragazzi la mia squadra è speciale vero gioco con i miei fratelli voi non vedete guarda lì oh ho trovato affrodite ecco bravo ho usato l'ultimo usato bene vi li metto a grandezza naturale però è troppo bello così lo so fa ridere ma gne gne allora come 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 entri nel nostro server basta che quando ti iscrivi io mi sono dovuto tornare davanti quindi non mi direi cose quando crei il personaggio cerchi il server s 180 sirena nicole poi italo turco non di questo è dato ma il serve papà il server è italo turco è il tuo italo turco il tuo turco il tuo italiano turco a dire menzogne fendone fandonie non c'è bisogno cattivo niente qua muoiono da soli guarda là bam go 2 ondata a 2 oh ah qual'è quello più scarso che ho? 22-20 aspettiamo lei andagli eh aspetta eh spam spam no 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 non bello non bello ora va bene dai ammazziamo sto centauro e poi una livella appare per tutte le volte uno spersonale quante missioni mancano? eh di questa di questo capitolo finiamo il capitolo finiamo il capitolo dai dai no no allora fai tre stelle se nessun tuo eroe muore hai visto? se non muore nessun eroe fai tre stelle dice qua sopra ci siamo noi con la facecam pro qua qua sopra dice quanti che stanno sopravvivendo aspetta è rimasto nel centauro quaker papà la chat è principalmente turca non va bene scrivete che arriva sul gioco ma nel server dici? adesso ci spammiamo un po' di cagate dai aspetta finisce il capitolo stai mancano mancano allora intanto prendo il bonus qua mancano quattro no di più cinque cinque capitoli che capitoli? cinque livelli battaglie livelli battaglie livelli ammazzo tutti battaglie è delirante in chat perchè che stanno scrivendo? ammazzo tutti vi facciamo avete solo il kebab ma che cosa? l'Italia facciamo il culo merda El e Sabi Eben che cazzo è? oh ma qui lo schiottano no scrivi il potere dell'Italia cazzo power it italy power poi incontriamo prima o poi Enes Batur gli avranno raccontato tutto quello che è successo ti immagino che incontriamo tipo alle 3 eh a los angeles vabbè los angeles è territorio neutro cioè non vado neanche la pizza nel kebab quindi territorio neutro no la pizza in America minchia più del kebab si le dico ma non è buona quella italiana e che vanno c'è lo so ma sono c'è ci abbiamo gli americani dalla nostra poi il Trump ma quelli mettono il ketchup al posto il pomodoro ma di che stiamo parlando? perlusconi ma tu sei napoletano ma che stai dicendo? ahhhh no raga che cazzo fai? no raga che cazzo mi hai fatto malissimo mettimi la webcam grande Stefano perché? sì stavo per bere il bisol poi sei rovesciato tu sulla tastiera il bisol bon quello per la gola ma la spurti via questa roba che se devi più prendi questa roba ti stai male sì ma infatti sei una caterba d'uomo guarda sei un leucido che schifo è tutta acqua è tutta acqua è tutta acqua che schifo cosa la faccio mamma mia sta vai cos'è questo posto è grosso però eh grosso più grosso gigante di là non può pulire aspetta voglio leggere la chat vai sarkis italian cock raga ma sono più turchi che italiani e te l'ho detto no no non si danno da fare i nostri ragazzi forza Italia come si chiama lui? Enesabi karma bizziadi ma che cazzo scrivevi? come si chiama la mamma di Enes? no no Sasha cosa? voglio salutarla eh voglio salutarla comunque facciamo anche le missioni nel mezzo tra una cosa e l'altra eh io sto facendo tutto infatti però c'è dietro devi fare per forza no raga il visual world adesso come guarisco una cosa che stai da due settimane a piare il visual world guardate un bel video motivazionale ma te devi andare a me giugore Sasha altro che tu devi dire veramente meglio i video motivazionali delle edicine no papà adesso non so più come guarire rimarrai malato a vita che ti devo dire aia dove sta andando? appeso a pulire? appena è una cosa per pulire? no ha leccato già come ha leccato? ha leccato? tutto appiccicoso se non pulisce poi deve buttare la scrivania oh un nuovo eroe fortuna si chiama per fortuna che ti spacco il culo fai così ah raga ricordatevi le fan art turchi contro italiani mates contro Enes Batur che non mi fa ridere e taggate Enes Batur su Instagram e taggate Berlusconi ragazzi taggate Berlusconi taggate Berlusconi no raga taggate fate 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 le fan art aspetta aspetta fate le fan art mates versus Enes Batur e poi raga secondo me il nipone non ci segue ci mettete quello che volete pizza kebab quello che cavolo volete e ci taggate su Instagram a tutti mi raccomando stiamo parlando è figo si ma non taggate Enes Batur perché no? ma è una fan art raga non è che dovete ma come al minimo fanno Enes Batur in sgozzato no raga no no fate ironico cioè non cioè è tipo un duello uno in mano alla pizza uno in kebab che ne so oh mamma mia oh mamma mia oh mamma mia non prendete esempio da Sasha che vi spinge all'insulto ma poi quando è che diciamo chi ha vinto e dove ha vinto dopo due settimane c'è scritto la nazione che ha vinto dai con la home page nella home page si ragazzi però il bello è che c'è scritto se vedete tipo nella home page del gioco sta scritto i mates fanno una live alle 17 siamo anticipati un po' di tempo però ragazzi tra due ore live attenzione annuncio tra due ore vai live sono surri no allora sbomb hai visto tripla file insieme cazzo vuol dire eh no ha morto il mio personaggio ha fatto un devo rifare 3 stelle devo rifarlo i should redo this allora è invisibile sto personaggio si la rifacciamo perchè è morto il mio pg ma sti cavoli vai avanti no assolutamente eh no fai 3 stelle devi fare 3 stelle è una questione di rispetto tranquillo altrimenti non te lo offrono mica kebab poi poi mi piace neanche il che fa spai perchè i treni quando giochi non so tremando muovi la gamba nooo di nuovo carlo che ti sei in culo carlo quello l'ho scioltato è morto nuovo il pg papà allora rigioca di nuovo finchè non vinciamo tutti e 3 tutti insieme non va bene anzi anima si sta curando dal raffreddore che c'ha da 2 settimane eh 2 mesi ahhh si vai con l'idropisma si io stai facendo sempre 2 stelle perchè è lo stesso round che si ripete eh lo so perchè tu stai muori a quel round e ti perdi 1 perchè la final di questa stronza arriva 2 non è che ne perdi 1 hai persi 3 eh hai persi 3 zio 好 esce al e si ragazzi il libro all'oggio lo continuano a trovare le librerie non è che sparisce noi siamo contentissimi di come sono andati tutti i eventi ne faremo altri quindi verei amici lo trovate sia su amazon e qui in libreria E in omaggio una batteria di tentole Ah no, quelli c'è in grasse Che sta succedendo? Sta pure la tastiera mi sa Dopo Sta rubinando Oh, guarda questo Sa ce con quello che costano le medicine Tutto a puccicolo la tastiera Te l'ho detto, dovrei buttarla come minimo Non puoi mica lavarla A nozio devi staccare tutti i singoli No, che figata Di ristaccare tutti i tasti Lavarli e poi riattaccarli E poi gli attacchi storti Fuori a Tudor Oltre non può morire nessuno Dici Dico Chi è il valeto? Non posso decidere chi mi chiare Aia Non muoio, non muoio Boom bitch, vinta anche questa No hero die Allora quanto ti manca? No, stiamo a morire Mancano tre papà Tre battaglie Dai E mi scelta Capitolo Boom Guarda se la battaglia Non sono più livelli Tu hai detto Se non ti dicevo livelli Ti dicevi battaglie Ma che cacco era lì Sta quello lì? Ma smetti di pulire E far casino Dai Su Prendete sta final Un sacco di danno gratis per niente Ma ci sono due eroi qua Vinta anche questa Ma adesso sto devastando Non ho intenzione di usare la mia fan Questa sì Quella mi sa che serviva se non muoio a volte C'è uno scudo mi sa Eh ho visto Dunque secondo me questa live avrà un botto di spettatori turchi quando andrai a vedere l'analytics Sì sicuro Comunque eravamo tre finali caricate appena inizia il round 2 Stai facendo un casino Non mi sento più Non mi sento più Cos'è se hai cinque finali insieme No adesso c'è uno Vieni hai capito che roba c'è questo Muo gli diamo tutti Ho pulito la tastiera Eh lo so l'abbiamo sentito Facciamo un casino No è tutto ok Ho fatto un macello dell'80 Bam Sono 88 se vuoi essere coerenti Non hai detto Vieni perché devo dirlo Ho perso di nuovo il mio personaggio Vabbè No che la scatola del bisol Volta di bisol Bisolto il section Bisolto il section Ok Che Valeria è morta Ultime due raga Vediamo un po' Oddio questo dragone Che cazzo state scrivendo raga State scrivendo delle cose in chat terribili Tipo? Eh no se sono terribili non si leggono Un argomento? Un argomento Allora Allora Boom vinto In Trentino si ci veniamo Ci dovremmo venire a marzo Ok A Roma ci veniamo a marzo Quindi basta che state attenti a tutte le pagine Instagram Le cose che diciamo tutto Con un attacca che è morto Boom Adesso vi facciamo anche un riepilogo di quello che è successo in questa live Di quello che succederà nelle prossime due settimane E' così Sappiamo tutto No C'è una vita Oh Madonna Boia Boia che rimonta Boia quanto stanno fanno Che rimonta epica Cioè stavo per perdere Quello niler qui fa un cazzo Si non fa danno è sicura Sicura è basta Andiamo avanti così all'infinita No E' boom E' boom E' sicura E' bot E' boia Ok Faccio torare in battaglia Un po' di bat Ultima battaglia per noi raga Poi facciamo un bel riepilogo Leggiamo un po' di commenti Ah prima di fare l'ultima battaglia mi busto un po' I bustati tutti i personaggini Aspetta Allora Che è a livello più basso L'angelo di fuoco Ok Boom 16 Livello 23 Buono Ho raggiunto il livello del mio editore Vediamo se posso dargli ai potenziamenti No No Raga i t dovete metterlo nell'agilità non nel nome Dai anche nel nome ci sta essere italiani a tutti gli effetti Eh ma diceva che non riesce a mettere i t nel nome Ok qua si Ah ok Ah ok Che non sai a livello non può spotenziarlo questo Pronti ultima battaglia per noi The last The last one Ma è figo questo Ok Cazzo è epica Sciallo Tranquillo Quanti round sono? Due Due ondate Due ondate Si riesce a fare tre stelle Un po' di sembra Gob No è finita e fa la final si Però aspetta se ti arriva la final del league Seppri è morto C'è più di solo me Attenzione Se ti arriva l'inner Ce la fai Fottete il video Con l'ha scritto in chat Brava Alessandro Sei furba Che complimenti Che ha detto? Ti litiga con Con gli Con gli Allora Adesso trova il modo Di mettere le cam Accetta Prima Prima E dai Capitolo 3 Capitolo 3 Completato Accetta Di chieste Amicizia No Raga Non ho ancora fatta la cacca Nei barattoli E tu Devo fare in questi giorni Ma come? Avresti già dovuto farla? No Devo aspettare il giorno Che mi dici che devo puoi portarla E dai Accetta tutti gli amici Quanti caspita ce ne sono? Raga Io non so come fare a cagare nei barattoli Ok Tu hai mai cagato nei barattoli papà? No Non le faccio queste cose Ma non è che devo farle perché voglio? Beh se non è un po' vuoi Metti le vuole Ma cosa? Aspetta riscuoto qua i premi Che non ho preso fino a me Non volete un campione anche poi come il giorno? Il prossimo da sconfigge è questo qua No vabbè la facciamo un'altra volta Dai eh Vai con la ulti E loro? E loro? Poo E dai eh Loro così L'unico modo è questo Aspetta L'unico modo è questo Tutti è anche lui Io mi prendo lui Ma cos'è? Non ha senso Non ha senso la webcam così Eh vabbè Fai un repilogo dai Di come funziona tutto Metteteci al centro e accarezzateci Per cazzo Ma fa il culo papà Metti Sasha sul di me Sulla mia faccia E solo sul di te Sì eh Immagino così Sì papà mi picchia Mi ho capito Vabbè Così 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 Stai di là Sto di qua Ci siamo tutti e quattro Eh ragazzi Abbiamo giocato a League of Angels 2 C'è una lotta Una guerra culinaria Contro i turchi Dobbiamo in due settimane Riuscire a fare più punte Nel loro gruppo Se ci riusciamo Gli italiani vincono 10 Anzi 11 premi Il primo è un computer Poi ci sono tastiere Mouse Cosi del genere Dovete registrarvi con il link Che c'è qua sotto in descrizione Entrare nel server Italo-Turco 180 Numero 180 La gilda si chiama It-Mates Dovrebbe essere piena Quindi create gilde Che iniziano per It It-Mates 2 It-Mates 3 It-Mates 4 E così via E fermate i punti Sette Più punti si fanno Più si vince Leggiamo qualche domanda Vediamo se c'è qualche domanda seria Uno ha già fatto una L'ha già fatta la Farnarte i kebab Ecco Di già Cazzo è un fulmine Diamo vedere su Instagram Se qualcuno lo ha già fatto D'ora minuto Eh Stiamo accendendo a posto Allora vado a vedere Allora Uno è fatto un po' A cazzo Però tipo c'è questa Guarda Ah Quelle pizze che volano Cosa Bellissima Ma che cazzo Ma quando fai la Batur Ma c'è nel Batur Batur L'hanno messo Ma che cazzo Guarda che vedo se ne trovo altre Allora Hai già qualche domanda Stem Lì se ne trovi anche lì E vanno velocine Se primi la rotella in su Puoi fermare Pamparapamparapam Uno ha scritto Vi devo chiedere una cosa Perché non hai scritto la domanda E ci scrivete solo Ciao No per ora Ne vedo solo due Quelle due fanart Lì non ne vedo altre Ciao bella raga Ciao 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 il viaggio Che vi è piaciuto di più Eh Ci viaggi sono belli Sascha ti stile solo la testa Ah scusate Stavo guardando Un po' su Instagram No C'è però Sono solo due fanart Cosa avete contro Favij No non c'abbiamo niente Favij turco Mes Batur Mes Batur Cazzo però potrebbe essere Il nome per un'agenzia Di viaggi Bellissimo Mes Batur Ma Mes Batur Le uova Allora ragazzi Per le nuove maglie Arriveranno a breve Cioè Il prossimo mese Arriverà tipo Un bel cambiamento Abbiamo lavorato tanto Ti farò guarda Che ho il cameramino Insieme a me Ah Pensavo al mio Charizard Shining No Quello ancora È comparsa Comparso Comparso Io non ho legato E quindi Ne rubò mio fratello Sai che ho ragione Merda Ho io il coltello a parte del mare Il coltello a parte del mare, che non entri più in questa casa Qual è il problema? Non so se non entro come ti modito la carta Ma chi cazzo se ne frega basta non vederti più Perfetto Cosa mangerete adesso di buono? Il kebab Il tenerone Il tenerone è bellissimo da dire Cosa mangi il tenerone? Il tenerone di suri Insomma Ragazzi chi si ricorda il tormentone del cucciolo di suri? Questi sono tutti fanno nuovi Ci sono fanbag Ma è stato fatto una certa E me lo ricordo Sono i tre Il papà andrà a mangiare Ciao raga Ragazzi Ragazzi Un papà che non mi cucina C'è un tudor Ragazzi questa live termina qua Ti lasciamo tutte le informazioni in descrizione Faremo sicuramente altre live in futuro Qua sul canale Sono anche gli altri canali Quindi spolliciate Prima di andarvene dal video Spolliciate mi raccomando Andate a vedervi anche il video che uscirà a 17 C'è venite al futuro Non è uscito mai castita Raga hanno fatto suri Cioè la mia cosa c'è tutto suri Dove? Con lo scudo fatono di pizza Vestito da tipo da spartano Vuoi vedere? I mezzi vi saluto ragazzi Ci vediamo Vede La prossima Vai No Salutate Oddio Ciao Ciao Salutate Sascha saluta Ciao Così non ci sono ancora Salutate Ciao ciao a tutti Mi raccomando pizza Aspetta Coprite la cam Facciamo diventare tutto nero Mettete la mano davanti alla webcam Sul cazzo Lo saluto come stai Suri devi far diventare nero Capri quella facecam Coglione Oh no Non vuole neanche toccarla Guarda Suri tocca la facecam C'è più di così che devo fare Non è toccata La mia è nera Eh Così allora Eh Sascha 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 Ecco mi è caduta Di solo Ecco Sei caduta Mi sa Ciao Ciao No Chiudi Chiudi